La notizia è come diffonderla oggi tra social e web. Questo è il titolo della giornata di formazione per giornalisti organizzata dalla Federazione Italiana Settimanali Cattolici Regionale che si è svolta venerdì 17 febbraio nell'Auditorium Santa Clelia dell'Arcidiocesi. Un appuntamento interessante per comprendere l'evoluzione dei linguaggi attraverso i social e il loro utilizzo nella comunicazione diocesana di evangelizzazione. I social media non sono più uno strumento pratico da utilizzare al bisogno ma sono un ambiente in cui tutti siamo immersi ed è opportuno trovare più che delle strategie pratiche per utilizzarli delle chiavi di lettura per comprendere i fenomeni umani che avvengono all'interno. I settimanali cattolici sono da oltre 100 anni la spina dorsale dell'informazione cattolica in Italia e negli ultimi anni l'avvento dei media digitali hanno distolto attenzione e risorse verso questa che è una storia più che secolare. È importante anche per i settimanali diocesani con le loro strutture e con le loro organizzazioni capire come utilizzare e vivere più che utilizzare, vivere i social per non solo diffondere ulteriormente il proprio messaggio ma anche aiutarci a ripensare in un contesto di profondo cambiamento in modo tale che gli stessi principi che animarono tra fine ottocento e inizio novecento le diocesi a insistere sulla comunicazione sulla carta e possano impiegare le stesse risorse, la stessa potenzialità e le stesse anche maestranze per annunciare nel mondo dei social. I settimanali cattolici della regione è un momento importante perché ci aiuta a interrogarci su come cambiare la carta è ancora forte, la nostra presenza sul territorio è adicata, però certamente occorre riflettere insieme su come il giornalismo e la comunicazione cambiano per questo ci siamo messi insieme anche nel confronto delle esperienze e per capire insieme come muoverci.